Romina Power, un simbolo della musica italiana insieme all'ex marito Albano Carrisi, ha recentemente condiviso una parte molto privata e intima della loro vita congiunta. Si tratta di un segreto che Romina ha mantenuto celato per anni, mostrando che anche tra le coppie più celebri possono nascondersi misteri profondi. Prima di scoprire cosa nasconde Romina di Teci se vi siete mai trovati in una situazione simile, tenendo un segreto dal vostro partner, condividete le vostre esperienze e pensieri nei commenti. La coppia, famosa non solo per la loro carriera artistica ma anche per la vita familiare che hanno condiviso, è stata benedetta con quattro figli, Yari, Ilenia, Cristel e Romina Jr. Romina ha rivelato di aver sempre provato un senso di perdita man mano che i suoi figli crescevano e si distaccavano. Un sentimento che è diventato ancora più forte dopo la tragica scomparsa di Ilenia a New Orleans negli anni 90. Romina ha confessato che questo senso di perdita l'ha portata a vivere le prime fasi delle sue gravidanze in un isolamento emotivo, mantenendo il segreto della nuova vita che cresceva in lei. Durante un'intervista, ha rivelato, nei primi momenti della gravidanza, provavo a tenere tutto per me, quasi a voler proteggere quel piccolo segreto. In un mondo dove la loro vita privata era costantemente sotto i riflettori, questa scelta assume un significato ancora più profondo. Romina descrive come ogni passo verso l'esterno dei propri figli, dalla loro educazione all'indipendenza, fosse per lei un distacco emotivo. Questa rivelazione ci porta a riflettere sulla complessità dei rapporti umani, specialmente in quelle coppie che sembrano vivere costantemente sotto i riflettori. A volte, i segreti più grandi sono quelli che decidiamo di custodire nel silenzio del nostro cuore. La decisione di Romina di mantenere segreto il suo stato di gravidanza è un esempio di come, nonostante la fama e la visibilità, ci siano aspetti della vita che rimangono profondamente personali e privati. Questa rivelazione offre una nuova prospettiva sulla figura pubblica di Romina Power, mostrandoci un lato più vulnerabile e umano della cantante.